Nei consigli del 24-25 gennaio scorso, quindi ieri e l'altro ieri, sono stati affrontati alcuni temi, in particolare c'è stata una questione, quella della rielezione del Corecom, che è un organismo importante che dipende dal Consiglio regionale, cioè quell'organismo che si occupa della comunicazione e quindi per esempio in caso di campagne elettorali è garante della Parcondicio e poi ha delle funzioni delegate importanti dall'Agicom nazionale, per esempio la risoluzione delle controverse in materia di rapporti fra cittadini e i vari esercenti, le attività sia telefoniche che di altro genere, questa rielezione ha creato dei problemi, ha creato dei problemi alla maggioranza evidentemente di governo regionale in quanto i candidati, sia Presidente che componenti del Consiglio del Corecom che sono stati indicati preliminarmente dalla maggioranza, non hanno trovato il pieno consenso della maggioranza stessa. Questo naturalmente propone dei problemi sia di ordine tecnico dal punto di vista del fatto che chiaramente il Presidente che era stato disegnato dalla maggioranza non è stato eletto, così come dei problemi anche di ordine politico, perché evidentemente la maggioranza al suo interno ha delle criticità, non ci sono quelle condivisioni che probabilmente la maggioranza stessa credeva di avere. Quindi questo ha portato appunto a un risultato un po' a sorpresa e questo è un tema. Sul piano più tecnico invece nel Consiglio di ieri poi sono state approvate due leggi fondamentalmente, la prima è il progetto di legge 132 che parla di agricoltura, quindi posizioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Si tratta di aiuti in modo complementare all'agricoltura, è un momento come tutti avrete visto dove anche in Europa l'agricoltura è in crisi, ci sono grandi proteste in Francia, in Germania e quindi questi aiuti complementari noi abbiamo ritenuto che fossero positivi, si parla naturalmente di aiuti in caso di calamità, di siccità, che sono temi sempre più dibattuti e all'ordine del giorno e quindi per favorire lo sviluppo dell'agricoltura così importante anche in zone di montagna come la nostra, anche per l'impantenimento del territorio, abbiamo ritenuto di dare il nostro voto favorevole anche da parte della minoranza. L'altra legge importante di cui si è parlato è quella relativa al progetto di legge numero 131 invece che aveva come oggetto disposizioni organizzative urgenti in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e altre disposizioni in materia di contratti pubblici, sostanzialmente quello che comunemente viene detto la legge sugli appalti. Molti di voi sapranno che l'anno scorso è stata modificata da parte del Governo nazionale e questa legge serviva tecnicamente ad adattare a queste modifiche nazionali la legge regionale. Su questo invece come Lega Valle d'Osto ci siamo astenuti perché malgrado questa legge sia necessaria, abbia dei dati molto tecnici, comunque alcuni degli emendamenti che erano stati proposti o quantomeno delle modifiche che erano state proposte da organi di rappresentanza come la Chambre o Valdotene, come gli organismi professionali, quindi collegi e ordini professionali valdostani che avevano suggerito di fare degli aggiornamenti e delle integrazioni importanti, per esempio una battaglia che noi abbiamo sempre condotto, io personalmente in particolare, sull'equocompenso dei professionisti. Ecco, questi adattamenti non sono stati percepiti e non sono stati recepiti dalla maggioranza. Per noi è un'occasione persa, come abbiamo detto anche ieri in aula e per questo motivo non ci ha soddisfatto questo testo di legge, non ci ha soddisfatto appieno, ne abbiamo condiviso una parte ma non tutta e quindi ci siamo astenuti su questa legge.